Ben ritrovati in questo viaggio senza tempo nelle terre del Salento, oggi vi salutiamo da San Cesario di fronte al suo palazzo ducale e da qui salutiamo a tutti i gentili telespettatori di TR News, un viaggio che ci regala tante emozioni ogni settimana come queste A Castiglione e Dothranto tra i palazzi nobiliari sulle tracce dell'enigma del sole radiante Critico d'arte, storico, professore universitario, oggi conosceremo insieme Massimo Guastella ci accompagnerà nei suoi luoghi del cuore che sono nel centro di Brindisi Due tesori delle terre di Vernoli, le capelle di Santa Severina e di Mater Domini ci saranno mostrate oggi per la prima volta da Don Egidio Butazzo Da Martina Franca per andare alla scoperta delle successioni feudali che caratterizzarono la città che emana ancora il profumo dei gigli angioini Ed infine siamo stati a Lecce per preparare un pane davvero speciale E allora accompagnateci questa sera nelle terre del Salento alle 21.30, vi aspettiamo